Continuiamo a parlare di ChatGPT ragazzi, oggi vi faccio vedere un'applicazione local per fare soldi per tutte le persone volenterose Basta solo la volontà e ChatGPT, non servono competenze, possiamo portarci a casa 2000 euro al mese Ci basta trovare 4 clienti da 500 euro al mese, 2 clienti da 1000 euro al mese Di che cosa sto parlando, di quali clienti sto parlando Ragazzi viviamo in Italia, il luogo più incredibile del mondo Dove stiamo indietro anni luce su tutto e questo paradossalmente è un'opportunità Ci sono ancora un sacco di attività locali che non sono sui social E' pazzesco ragazzi, è pazzesco E noi semplicemente possiamo proporci, cioè ragazzi questo è un video per guadagnare Per chi parte da zero, sei disperato, non trovi lavoro, ti hanno fregato, ti hanno programmato male Adesso guadagni magari lavori, un lavoro brutto dove esci di casa alle 6 e mezza, 7 di mattina Ti fai un'ora, arrivi poi esci alle 7, ti fai un'altra ora, arrivi alle 8 e si sono presi la tua vita Bene, ovviamente ci sono queste situazioni ma come io dico sempre ci sono anche gli anticorpi Al fatto che il sistema ci vuole ingabbiare E noi possiamo restare all'interno del sistema e spassarcela E quello che faccio da una vita Io voglio stare all'interno del sistema Voglio la libertà, voglio i soldi Non voglio mandare a quel paese il sistema e poi vivere Vabbè ci sono mille modi per mandare a quel paese il sistema Ne parleremo in un altro video Se vuoi approfondire l'argomento di questo video ti ricordo che in descrizione c'è il link Al mio corso gratuito di un'ora dove ti parlo della mia esperienza e ti spiego come io riesco a fare più di 3.000 euro al mese in organico con i prodotti digitali Più un canale YouTube, più il blog Clicca in descrizione, c'è il link oppure vai su corsogradis.michelemarallino.com Dove c'è un corso più approfondito di un'ora dove ti faccio vedere come io nella nicchia musica Con il mio canale YouTube Michele Marallino Musica e i miei prodotti digitali e le mie consulenze riesco a guadagnare online con una mia competenza in una nicchia specifica Che poi è il modo migliore, più serio per guadagnare online Forse l'unico modo, vendere le tue competenze, vendere prodotti digitali Vai in descrizione e corso gratis.michelemarallino.com Se vuoi approfondire anche tu vuoi imparare come fare più 3.000 euro al mese in organico Senza pubblicità, senza spendere soldi In organico con un canale YouTube o una pagina Instagram o un canale TikTok con il social che preferisci Il mio preferito è YouTube ma si può applicare con qualsiasi social più un blog Più i prodotti digitali e c'è un'offerta alla fine di quel corso molto interessante Dove hai tutta la mia formazione se vuoi ancora ulteriormente approfondire e imparare passo passo come creare un sito internet Che vende prodotti digitali come creare un blog, come creare un canale YouTube Che ti fa guadagnare dalle affiliazioni, dalla vendita dei tuoi prodotti, dalle collaborazioni, dalle sponsor Un mondo pazzesco e ti posso aiutare a seguire da vicino Ma parti dal corso gratis.michelemarallino.com Vai in descrizione e scarica il corso gratuito di un'ora E adesso torniamo al video Comunque se non sei soddisfatto Molla tutto Apri un computer, c'è ChatGPT3 Cioè l'intelligenza artificiale è arrivata, una tecnologia incredibile Ho fatto altri video dove faccio vedere come sfruttarla Ci sono anche dei corsi dove ti faccio vedere come fare soldi senza vendere niente Come poter vendere dei servizi invece Attraverso appunto semplicemente ChatGPT3 Senza avere praticamente competenze puoi vendere tanti servizi Ti metto i video nelle schede Oggi vediamo come fare soldi semplicemente occupandoci di social Per attività locali Ok potete farlo anche per aziende ma se partite da zero vi consiglio Un metodo per andare a fare i primi soldi E andare dai clienti Andare dal ristorante sotto casa Andare dal paninaro sotto casa e dire Senti vuoi incrementare i tuoi clienti? Facciamo una prova All'inizio tutti lavorano gratis per fare i primi clienti Oppure potete già Sì o lavorate gratis per un cliente O create dei casi studio O vi mettete voi e create una pagina Iniziate a farla crescere Così poi andate dal cliente e gli dite Guarda questo in un mese Questo è un profilo Instagram che ho creato io Ho pubblicato post tutti i giorni per esempio Lavorate con Instagram che secondo me per le attività locali è il social migliore Questo è il social che ho creato Scusatemi la pagina che ho creato Instagram In un mese ha fatto 2-3 mila iscritti C'è questo engagement E come l'avete fatto? Con chat GPT Adesso vi faccio vedere quello che potete fare Il punto è che una volta che avete trovato Vi siete accordati con 500 euro al mese per un post al giorno Penso che vada bene Oppure gli mettete un post Gli fate un post e un reels al giorno Cioè abbiamo visto anche come fare video shorts per esempio Quindi video verticali di un minuto anche gratuitamente Cioè dove trovarli Andatevi a vedere i miei video sugli shorts Su Cash Cow Channel Ci sono dei siti dove potete trovare dei video Magari ve li faccio vedere anche in questo video Per dare una completezza Quindi iscrivetevi al canale ragazzi Qui diamo valore fortissimo Per chi non mi conosce Sono Michele Maraglino Faccio business online dalla fine del 2016 Ho un'attività Lavoro nella musica Ho un'etichetta Un ufficio stampa Sono un cantatore Dalla fine del 2016 ho iniziato ad aiutare musicisti A fare il mio stesso percorso Chi vuole promuoversi da solo Chi vuole mettere in piedi la propria etichetta Chi vuole creare un ufficio stampa Ho creato corsi dove spiego online Corsi online Video corsi dove spiego passo passo tutte le cose da fare E quindi ho iniziato a venderle Ho un canale youtube più grande di questo Ho acquisito esperienza sia su youtube Ho acquisito esperienza anche di vendita Di info business E ho deciso di chiacchierare allegramente su questo canale E chiacchierando chiacchierando Mi sono accorto di aver rivelato tantissimo valore Quindi se ti interessa guadagnare online Aprire il tuo business online Fare soldi online Investimenti Gestione del denaro Iscriviti Crescita personale Iscriviti a questo canale Attiva la campanella E non perdete i prossimi video E guardati anche quelli vecchi Perché ci sono più di 600 video È pazzesco Allora Quindi detto questo Ti sei iscritto Andiamo a vedere Ok Facciamo finta Ho sputacchiato sul computer Non so se lo vedete No perché OBS registra lo schermo Ma internamente Il software Non l'hardware Ma mi è partito Va bene Allora ChatGPT Ragazzi lo conoscete Se non l'avete mai sentito parlare Scrivete chatGPT Su google E arrivate sul sito Vi loggate Vi registrate E siamo a posto Allora Facciamo finta Che sotto casa vostra C'è un ristorante Che fa la carne Oppure che fa Panini vegani Ecco Panini vegani Voi andate lì E vi proponete Guarda voglio curare I tuoi social Però ovviamente Per fare un accordo Vi consiglio Prima create una pagina È la Su instagram Che è la cosa più intelligente Che potete fare Aprite una pagina Che parla di cibo Per esempio Tanto in italia Il cibo va alla grande Magari aprite una pagina Che parla di cibo vegano Ok Allora Iniziate a crearla Con questa pagina Poi andate dai ristoranti Poi create la pagina In base al Al target Che volete puntare Se sotto casa vostra C'è un ristorante O andate lì Con la faccia tosta E dite Guarda mi posso occupare Dei tuoi social Ti faccio un Ho visto che Ovviamente controllate Se su instagram Se non sono attivi Cioè quelli Più o meno siamo in un periodo In cui comunque lo sanno Che c'è bisogno Però magari nessuno Si è mai cimentato Se gli arriva qualcuno Che gli dice Guarda me ne occupo io Magari all'inizio Li fate Prova un primo mese Ti faccio il 50% di scotto Ti do Fammelo Il primo mese Mi dai 200 euro Se poi ti trovi bene Il mio costo è di 500 euro Proprio se non volete partire gratis Questi sono tutti i spunti Che vi sto dando Quindi facciamo finta Che avete preso l'accordo Con questo ristorante Vegano Ok Semplicissimo Andate su chat GPT Ogni giorno E lui vi fa i post Post Su instagram Il post Io farei dei caroselli Scusa Proviamo a dirgli Crea Scrivi Scrivi Un copione Per un post Carosello Su instagram Sul cibo Vegano Allora proviamo così Vediamo che ci dice Lui fa tutto Immagine Guardi Ragazzi Io mi sento male Ti dice pure Ti dice pure Le scene Cioè ti dice pure l'immagine Slide 1 Immagine di un piatto vegano Invitando quella di Tascalia Il cibo vegano Non è mai stato così gustoso Slide 2 Immagine di verdure colorate Con la di Tascalia I nostri piatti vegani Sono pieni di nutrienti e colori Slide 3 Immagine di una persona Che gusta un piatto vegano Con la di Tascalia Gustare il cibo vegano Un'esperienza unica per il prelato Scena 4 Immagine di diversi piatti Con la di Tascalia Offriamo una vasta sezione Di piatti vegani Per soddisfare ogni preferenza Slide 5 Immagine di una persona felice Che mangia un piatto vegano Con la di Tascalia Che Di Tascalia Il cibo vegano è buono Per te e per il pianeta Viene a scoprire la differenza Slide 6 Immagine del logo del ristorante Con la di Tascalia E visitate il nostro ristorante Per un'esperienza indimenticabile Con il cibo vegano Ve l'ha fatto Noi adesso andiamo su Canva Ok Qui ci sono praticamente Andate nella home Ci sono praticamente I I I I I I I I I template Potete scegliere Come avevo fatto prima Vabbè potete andare su social media Eccolo qua Social media E Instagram post E Lui vi dà Delle basi Io mi sento male Io avevo scelto questo Per esempio Vedete c'è tutto il carosello Bello Però qui vediamo Vediamone altri Perché io adesso No Io adesso lo voglio fare Se io scrivo food Cioè io adesso voglio fare Sì però noi dobbiamo cambiare Ci serve qualcosa di testuale Dobbiamo semplicemente No Rimaniamo qui Ce lo costruiamo noi Allora qua chiudiamo Andiamo su chat GPT Allora scena un'immagine di un piatto vegano Con la didascalia E ci copiamo la didascalia Io mi sento male Quindi qui possiamo andare su foto E cibo Ora scriviamo vegan food Meglio in inglese Su campo Wow Troviamo l'immagine Questa qui Ok Voglio dire ragazzi Secondo me Con un paio d'ore Al giorno Avete fatto Qui mettiamo praticamente Il cibo vegano Non è mai stato Ok Allora qui non si legge molto bene Perché questa immagine Scegliamo delle immagini Oppure facciamo questa cosa qui Facciamo edit image Facciamo festivo Che la La riavviva Uh che bomba Poi facciamo Andiamo su element Ragazzi vi sto dando Proprio delle chicche Del mestiere Iscrivetevi a questo canale Ragazzi Facciamolo esplodere Stiamo crescendo Perché è normale Vi sto dando tanto Di quel valore Veramente Vi faccio vedere Sono corsi Che io vi faccio Magari lo facciamo nero Andiamo qui Position Mettiamo Back 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 E poi Trasparenza No Aspetto sbagliato Annulla Era giusto Così Ripristina Ripristina Ah scusatemi Rimettiamo Così vi faccio vedere Quindi selezionate il quadrato Lo mettete largo così Lo fate nero Ok E poi andate su qui Lo fate nero Andate qui su questi tre trattini Fate trasparenza E lo un po' Così Rendete Però Posizione Back No Forward Scusate Trasparenza Lo fate un po' così Ok Magari il testo Ovviamente Lo facciamo bianco Oh Eccolo qua Il cibo vegano Ora sto facendo un esempio Ragazzi Poi ci smanettate un po' Magari lo mettete qui sotto Può essere un esempio È abbastanza brutto Però per farvi capire Ecco Così Magari Sì Ok Però deve essere leggibile Non mi piace Se noi andiamo su foto È importante Ecco All'inizio Mettiamo solo food Tipo questo Ecco è molto più Leggibile Ok Facciamo annulla Qua magari Lo rimpiccioliamo Anche se dovrebbe essere più grande Ok Un esempio No Poi Andiamo alla slide 2 Qua cancelliamo tutto E lui ci dice Scena 2 Immagine di verdure colorate Con di Tascalia I nostri piatti Sono pieni di nutrienti E colori Verdure colorate Qua c'è un pollo Non va bene Ok Ritorniamo a vegan food Però voglio dire Via Non vi dovete scervellare Poi una cosa Oddio funziona bene anche La versione gratuita Di canva Però Se poi fate questo per mestiere Un abbonamento mensile Non so Non costa tanto Fatelo Così avete le migliori immagini Così avete le migliori immagini Ci sono siti gratuiti Dove trovate le immagini Quindi possiamo scrivere anche qui Vegan food Ora non Sono tutte senza copyright Guardate che belle Qui ecco Forse è meglio di canva Possiamo scervellarci Cioè sono gratuite Queste senza copyright Le potete scaricare Un altro sito Vegan food E questi hanno anche i video Vegan food Cerca Ok non so Che cosa è successo Wow Queste ha delle immagini stupende E magari possiamo cercare anche i video E ci sono i video verticali Vediamo per esempio questo E avete fatto i reels Questa vabbè pizza Ma ho scritto vegan food Ok Anche qui possiamo mettere video Le gif Ed è tutto gratuito Trovate quelli verticali Di solito ci sono Ok Oppure usate canva Però voglio dire Con chat gpt Questa è l'insalata Che lui diceva Andiamo qui E i nostri piatti Sono pieni di nutrienti E colori Pam Testo Possiamo direttamente copiare il testo Mettiamo bianco Colore bianco Il gioco è fatto Ora poi possiamo tutto editare Sistemare Però voglio dire No qua ho duplicato Per semplicità Potremmo duplicare E cambiare Anche qui Facciamo un po' di Mettiamo un po' di Colore Gli mettiamo un filtro Per rendere Diciamo su element Mettiamo il rettangolino Per rendere Più leggibile Il testo Ok Mettiamo nero Poi facciamo E poi facciamo tre trattini Trasparenza E il gioco è fatto Mamma mia Ancora un po' Dai Sennò è troppo Si deve vedere l'immagine Però deve essere leggibile La scritta Ecco No Facciamo un altro po' di qua Ora un esempio veloce ragazzi Il cibo vegano Non è mai stato così gustoso Quanto ci ho messo Il video dura 15 minuti Considerate che ve lo sto anche spiegando No vabbè Ok Andate Sotto casa Cercate i locali Scrivi un copione Per un post carosello Su Instagram Sul cibo vegano Su questi siti di video gratuiti Avete anche video Dove potete fare i reels C'è solo da mettersi in gioco Avere la volontà E' ovvio che se volete i soldi Senza fare niente Quelli non arrivano Ma online Ci sono strumenti gratuiti Pazzeschi E con un po' di spirito Di iniziativa I soldi arrivano Potete mettere in piedi La vostra agenzia di marketing Avete 2, 3, 4 ristoranti Secondo me Fate un post al giorno Quindi si tratta di fare 4 post al giorno Secondo me Con un paio d'ore Di lavoro al giorno Vi siete portati a casa 2.000 euro Se concludete l'accordo A 500 euro al mese Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se questo video vi ha ispirato Iscrivetevi al canale Commentate Fatemi sapere Veramente commentate Mi servono i commenti Scrivete Per supportarmi Miki Mi hai gasato ancora Se questo video vi ha ispirato Vi ha aperto un mondo Perché i video servono Proprio a farvi esplodere il cervello Questo voglio fare io Voglio farvi esplodere il cervello Quindi Anzi Scrivete Miki mi hai fatto esplodere il cervello Scrivetelo a tutti Così mi aiutate E iscrivetevi al canale Per il resto Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao